Chi sono gli eroi di Destiny 2? Sono i lupi solitari e la squadra al tuo fianco. Sono gli impavidi, gli squagli a boss, gli spaccamascelle, quelli che salvano il rianino, che esplorano segrete, i grandi maestri alla conquista e i cercatori di forzieri nascosti. Sono maghi dello spazio, picchiatori inarrestabili e virtuosi del coltello. Sono gli esempi da seguire, le guide che conducono al trionfo. Sono gli osservatori alle spalle e gli scudi in prima linea, la scivolata che conquista una zona e il colpo che strappa la vittoria. Amano le leggende, sconvolgono il metagioco, attendono furtivi la squadra e con un salto raggiungono la piattaforma per un soffio. Sprecciano per i pianeti a bordo dei loro astori, volano tra le stelle e ballano. Tanto. Sono i novellini e i veterani che anche se cadono, si rialzano e continuano a lottare. Sono la community che unisce perfetti sconosciuti, gli amici che ti hanno accompagnato fin dall'inizio e quelli incontrati lungo il viaggio. Vuoi unirti a loro? Destiny 2. Cercasi eroi.